Loretello si erge a 300 metri di altitudine sul livello del mare, è uno dei nove castelli di Arcevia e fra essi è il più antico, se ne hanno notizie già a partire dal 1072. È divenuto di proprietà di Rocca Contrada, l'antico nome di Arcevia, nella seconda metà del 200. Sono ben conservate le mure esterne percorribili con i camminamenti e le due torri, quella della guardia e l'altra chiamata la prigione. Quello che vediamo oggi della frazione è il frutto di ampliamenti realizzati fra il 300 e il 400. Il castello di Loretello nasce intorno al 1000-1070 come presidio fortificato del territorio in un'ampia area che si chiamava Massa di Sorbetolo, che coglieva il castello di Palazzo, il castello di Loretello, come dicevo, quello di Nidastore, Montesecco e Caudino anche. Era un'ampia massa che veniva amministrata dal Vescovo di Fossombrone. Nel 1951 avevamo 700 abitanti, oggi in questo momento ne contiamo 150-180. Oggi il castello appare elegante e curato, il merito è dei cittadini che si impegnano ogni giorno a mantenerli in questo stato. Sono proprio loro a fare da guida i vari turisti. Dopo la recente morte di una cittadina, che è stata per anni il punto di riferimento del posto, gli abitanti rimasti si definiscono custodi del luogo. Di recente è stato anche aperto un museo che celebra la ricca tradizione contadina del territorio. Qui abbiamo un piccolo museo della civiltà contadina, una piccola raccolta donata da tutti gli abitanti di Loretello per non lasciarli abbandonati e abbiamo fatto questa piccola raccolta carina. Adesso la stanno ristrutturando lo stabile. Io dal mio terrazzino vedo questi baci, baci, baci e perché no? Loretello è il castello dell'amore.